Pace fiscale relativa alla tassa automobilistica, non c'è scampo per i contribuenti abruzzesi. Coloro che non hanno pagato il bollo non possono fruire dei benefici del Decreto-Legge 119 del 23 ottobre, quello che introduce lo stralcio, ossia l'azzeramento dei debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Detto in poche parole, la Regione Abruzzo è interessata da questo provvedimento di cosiddetta pacificazione fiscale per il solo anno 1999, che pesa per un importo inferiore al migliaio di euro, perché dal 2005 in poi il servizio di riscossione è stato affidato a una società privata, la Soget S.p.A., che non ha alcun potere di annullare i crediti. L'annullamento dei crediti fino a 1000 euro sono stati disciplinati dalla legislatura con il Decreto-Legge 119 del 2008, aveva precisato la società di discussione nei giorni scorsi, nel quale tale possibilità è stata prevista esclusivamente per le cartelle di pagamento affidate all'Agenzia delle Entrate e Discussione, Ex Equitalia, e non anche per le ingiunzioni fiscali che sono state utilizzate dalle società private di discussione e dagli enti locali che riscuotono direttamente. Tutto confermato anche dagli uffici della Regione. Insomma, i contribuenti abruzzesi devono mettersi l'anima in pace, per loro appunto, nessuna pace fiscale, come spiegano i funzionari dell'Ufficio per la Tassa Automobilistica del Servizio Risorse Finanziarie della Regione Abruzzo, in via Leonardo da Vinci all'Aquila. Se da un lato la mancata pace fiscale potrà dispiacere ai contribuenti abruzzesi, dall'altro però l'ente tira un sospiro di sollievo, perché a ogni procedimento di rottamazione, stralcio dei debiti o agevolazioni a soffrire sono prima di tutto le casse della regione, ossia i suoi bilanci. Insomma, alla fine della fiera ne risentono i cittadini stessi in termini di meno risorse disponibili per finanziare servizi e sanità. Per l'Abruzzo, grazie al ricorso alla Soget, il decreto si tradurrà in una perdita di appena 800 euro, mentre sarà un vero e proprio salasso per tutte le altre regioni del centro Italia che invece hanno continuato a far ricorso all'Agenzia delle Entrate e Riscossione.